Ciao a tutti, mi chiamo Luca Nicoletti, OS Coach livello 2. Ormai sono un po' di anni che pratico Reset tutti i giorni, in particolare da quando ho partecipato al workshop Pressing Reset, il primo tenuto sinitalia. Devo dire che Original Stress ha cambiato radicalmente il mio modo di vedere l'allenamento fisico e il movimento in generale. Il cambiamento maggiore però è avvenuto l'anno scorso, conclusosi il workshop Pro Reset negli Stati Uniti. Da quel momento ho cominciato a capire che Original Stress non riguarda solo l'aspetto fisico del movimento, ma anche l'approccio mentale ad esso. Giorno per giorno mi accorgo sempre di più che corpo, mente e spirito sono strettamente collegati fra loro e continuando a fare Reset tutti i giorni ho instaurato una sorta di circolo vizioso positivo che fa in modo che mente, spirito e corpo si condizionino positivamente a vicenda, così come i Reset si condizionano positivamente l'uno con l'altro e condizionano positivamente ogni movimento e ogni azione che compiamo nella vita di tutti i giorni. Perché Original Stress fondamentalmente è questo, rappresenta il fondamento del movimento umano. Me ne sono accorto anche grazie ai miei allievi. Ogni giorno pratichiamo Reset e creiamo questo circolo vizioso positivo che va a condizionare ogni disciplina e ogni sport che decidiamo di prodigliare. Original Stress può essere anche utilizzato come allenamento ristorativo o anche come metodo a sé stante. Infatti l'importante è perseverare in questi Reset perché si ha la possibilità in questo modo di ripristinare i movimenti e le azioni naturali e deliberate che compivamo e avremmo dovuto continuare a compiere fin dal momento della nostra nascita. Perciò quello che conta alla fine non è quello che scegliete di fare, ma l'importante è che cominciate a Resetare.